... Brutto incidente questa sera, giovedì 30 agosto, intorno alle 21.30, sulla strada provinciale 53 a San Giorgio Canavese. A scontarsi due Renault Clio, una ha terminato la sua corsa fuoristrada contro ad un cartello di segnaletica stradale, mentre l'altra si è fermata sul ciglio della careggiata. Il bilancio è di quattro feriti non gravi, un 27enne di Venaria Reale, un 29enne residente in provincia di Napoli, un 28enne di Ivrea e un 28enne di Chivasso. I quattro, dopo essere stati stabilizzati e sanitari, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea per la messa in sicurezza delle vetture. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della radiomobile di Ivrea e della stazione di Azzeglio. La provinciale è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per permettere ai soccorsi di operare.